Sono più che raddoppiati gli sbarchi di migranti nei primi sette mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo è il dato che emerge dal rapporto del Viminale, diffuso a Ferragosto. Gli sbarchi da gennaio a luglio sono stati 89.158 rispetto ai 41.435 del periodo 2022, con una variazione percentuale del più 115,18%. Il principale paese di partenza verso l'Italia e la Tunisia l'anno scorso era la Libia. I rimpatri sono stati 2.561, più 28,05% rispetto ai 2.000 dell'anno scorso. Crescono anche le richieste di asilo, più 70,59%. Nel giorno di Ferragosto il ministro dell'Interno Piantedosi è andato a visitare le sale operative di tutte le forze dell'ordine. Il Ferragosto è da sempre un momento di bilanci per il Viminale, ma ciò che oggi mi preme più di ogni altra cosa, sottolineare che gli importanti risultati raggiunti in questi mesi sono il frutto del vostro impegno e del vostro sacrificio. Dal consueto report di Ferragosto del Viminale emerge poi che nel 2023 i delitti sono in calo. Nei primi sette mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, i delitti complessivamente segnano un meno 5,46%. È stabile il numero degli omicidi, 195%. Si registra anche un lieve calo dei femminicidi. Dall'inizio del 2023 fino al 31 luglio sono stati 71, meno 7,79%. Aumentano le manifestazioni calcistiche con disordini. Boom di interventi di vigili del fuoco per dissesto con 589.535 interventi da gennaio a luglio. Rispetto al passato sono in netto aumento le operazioni per dissesti statici, più 47%, e per danni idrici o idrogeologici, più 57%. Gaia Monbelli, Sky TG24